Assistono oggi ai nostri lavori gli studenti e docenti dell'Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico D'Antarighieri di Cerignola, Foggia, che salutiamo. Il senso è quello di mettere in atto un'educazione civica applicata attraverso dei vissuti esperienziali che consentono agli studenti della scuola di Cerignola in particolare dell'Itet Dante Alighieri non soltanto la conoscenza ma la consapevolezza dei diritti e dei dovedi per essere dei cittadini autentici facenti parte di una cittadinanza attiva. Nella scuola daremo continuità, quindi non è una esperienza temporanea o estemporanea quindi avrà un continuum esperienziale con effetto moltiplicatore di ragazzi che hanno partecipato a queste esperienze quindi saranno essi stessi i protagonisti nei confronti di altri compagni e poi essere testimoni di un vissuto importante, come dicevo, di cittadinanza attiva grazie al protagonismo di ognuno di loro. grazie a tutti grazie a tutti